In questo mese di gennaio si alternano notizie per quello che riguarda il mercato e notizie per quello che riguarda il campo. Partiamo subito dal campo e continuiamo con la bella notizia di un Chier che dopo essersi allenato ieri con il gruppo, anche oggi, anche se non ha partecipato alla partitella finale ieri, anche oggi si è allenato col gruppo. Dunque Chier lo diamo per recuperato pienamente per il match contro il Benevento alle ore 18 domenica prossima. Altre notizie riguardano Ibrahimovic che è tornato, come vi abbiamo comunicato ieri, vi abbiamo anticipato ieri, è tornato dalla Svezia, oggi alla Clinica Columbus, come sempre le visite per capire la condizione del polpaccio. Non si hanno ancora, diciamo, riscontri come sia andata questa visita, però ci auguriamo che possa incominciare o meglio proseguire le cure per essere a disposizione di Pioli. Nella partita col Cagliari mi sembra un po' più difficile il martedì precedente contro il Torino in Coppa Italia, quando il Milan affronterà il Torino a San Siro in Coppa Italia. Ricordo che poi dovesse passare il turno l'avversario sarebbe la vincente tra l'Inter, anzi tra la Fiorentina e l'Inter. Quindi queste le notizie di campo, quindi per quello che riguarda Benassere effettuare anche lui delle visite, ma le aveva già effettuate, non erano andate male, ma lo aspettiamo a metà del mese anche lui a gennaio, mentre nel fine gennaio dovrebbe tornare Gabbia. Per quello che riguarda invece il discorso mercato, il Milan si sta sempre guardando intorno per capire quali siano le figure migliori per potenziare la difesa e il centrocampo, mentre per quello che riguarda l'attacco, secondo me sarà un'opportunità o un'occasione, magari in questo momento non preventivata, lo vedremo al momento opportuno. I nomi sono sempre gli stessi, il Sandokan Simakan, giocatore dello Strasburgo, si parla di Lovato, io non credo che il Milan vada su giocatori italiani costosi, quindi andrà magari più su un giocatore francese, il mercato francese è molto monitorato, visto le conoscenze di Moncada, proprio nel mercato d'Oltralpe. Quindi si parla di Simakan, di Kaba che in questo momento sono un po' scomparse le tracce a livello di radar e quindi non pensiamo che sia, abbia diciamo superato nelle preferenze Simakan. È sempre giocatore Simakan soprattutto per le sue caratteristiche tecniche di rapidità, di agilità, di reattività, bravo nel, più che nell'anticipo, nell'andare a recuperare il giocatore che magari ha effettuato lo scatto vincente. Queste sono le caratteristiche di Simakan che intrigano più che Kaba la dirigenza rossonera. Per quello che riguarda il centrocampista, io, ma non avevo auspicato che potesse arrivare Ricky Puig, non sappiamo se ci sono stati dei riscontri da parte del Milan, sappiamo per esempio che però il papà Carlos Puig tendenzialmente vorrebbe che il giocatore non si muovesse da Barcellona, anche se da Barcellona a Barcellona non trova spazio, perché Koeman non lo ritiene giocatore utile alla sua causa, causa non molto vincente in questo periodo. Dunque, parlavamo di Puig, Sumare, quando, una cosa, quando leggiamo di giocatori che costano 20, anzi, centrocampisti soprattutto 25, 30, 35, dimentichiamoli subito, il Milan non spende, eventualmente mette qualcosa per il difensore centrale, ma i 25, 30, cioè non è un mercato da 50 milioni di euro. Mettiamocelo bene in testa. Un investimento dai 10 ai 15 per Simakan, dai 4 ai 5, 6, parliamo di cash. Poi magari ci sono delle formule con i diritti per portare avanti poi, se dovesse costare un pochino di più, ma a livello di cash dalla cassa usciranno. 10-15 per il difensore centrale, ne usciranno altri 4-5, 6-7 per il centrocampista e quando leggete anche di un Eduard, giocatore del Celtic, costo 30-35, che il Milan vada su questo giocatore, lo escludiamo. Il Milan avrebbe escluso anche Jovic, Scamacca e Depay. Per Depay e Jovic non ci sono dubbi visto i costi. Scamacca, che è un giocatore che tutto sommato ha la fisicità di Ibrahimovic, ha le caratteristiche di Ibrahimovic, è giovane ed è un giocatore di prospettiva, può darsi che si possa pensare a una formula che accontenti ovviamente il Genoa e il Presidente Preziosi, magari con dei giocatori da inserire e con magari una somma di denaro, però sinceramente sono più operazioni di giugno piuttosto che operazioni di gennaio. È notizia invece di stamane che Krunic, da quanto trappela da casa Milan, non è sul mercato. Pioli apprezza questo giocatore che non è straordinario nel centrocampo a due, però quando magari nel finale di partita serve un giocatore forte, magari nei tre dietro la punta, Krunic che poi ricordiamo aver segnato un bel gol contro il Celtic, è un giocatore certamente molto utile e molto importante per un certo atteggiamento della squadra, quindi è un giocatore che mette la fisicità, mette la forza e quindi Milan non vorrebbe, penso che non se ne privi, quindi non ci sono possibilità secondo noi di inserimenti nel Genoa e inserimenti nel, oppure trasferimenti a Torino, come si è letto Sponda Granata. La notizia spiacevole, perché dispiace quando tra fratelli si litiga, è la notizia che il Tribunale ha accolto la richiesta di Boban, di danni, dopo il licenziamento da parte del Milan un anno fa circa, qualche mese fa, e ha detto e ha, diciamo così, emesso la sua sentenza che prevederebbe 5 milioni e 375 mila euro a Boban, che il Milan dovrebbe dare, perché Boban infatti, secondo la sentenza, ha vinto questa causa, ora il Milan però ricorrerà in appello e vediamo come andrà, indipendentemente dal discorso pratico del denaro che vada o non vada, chi vinca la causa, chiaramente dispiace che un idolo Milano vende moda a Boban, uno degli eroi degli invincibili di Fabio Capello, poi ha vinto anche, ovviamente lo ricordate, il campionato nel 99, da protagonista nel finale di campionato, ecco dispiace che il rapporto tra il Milan e Boban finisca con una causa con il Tribunale, chiaro che non è quel Milan là, è un Milan diverso, però insomma a Boban siamo affezionati, peccato che il rapporto con il Milan, con questo Milan finisca, visto che era nata tutto come intuizione per vedere Boban protagonista del mercato e invece è finita male, questa mattina la sentenza, il Milan deve dare 5 milioni, ha vinto la causa a Boban, adesso il Milan ricorrerà in appello, peccato che finisca in Tribunale la storia meravigliosa di un giocatore meraviglioso come Boban. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegratti.